Quello che è accaduto stamattina è gravissimo, irresponsabile, illegale, illecito e sarà perseguito con la massima determinazione. Proprio perché si fa pagare un prezzo alla città di Napoli, ad ANM, al Comune di Napoli che in questa vertenza direttamente non c'entra nulla. Quindi noi siamo impegnati H24 per far lavorare i nostri servizi, per garantire l'indotto, per ascoltare, ascoltiamo tutti, ascoltiamo anche coloro che non hanno nessuna vertenza o il Comune di Napoli, ma chi si comporta in modo così irresponsabile secondo me deve riflettere che non è questo il modo per far valere le rivendicazioni che possono essere anche potenzialmente giuste e corrette, ma bisogna rispettare una città, rispettare una comunità, rispettare i cittadini che stamattina non si sono trovati il pullman alla fermata, che già sappiamo quanto difficile e duro è lo stato complessivo della mobilità su gomma nella nostra città, quindi noi ci siamo molto arrabbiati stamattina, molto arrabbiati proprio perché non esiste in questo momento città in Italia che abbia la capacità di ascolto, di intervento e di garanzia dei servizi pubblici come la città di Napoli che voglio ricordare in procedura di predissesto e non c'è alcun caso come il nostro. Quindi i lavoratori ci devono aiutare ad affrontare questa crisi, anche chi sa perfettamente che il Comune di Napoli non c'entra nulla come in questa avvertenza, se vuole che il Comune di Napoli si accolli, partecipi, si cali nel conflitto sociale, aiuti le rivendicazioni anche di altri comparti, lo deve fare in rispetto della città di Napoli, del Comune di Napoli e dei suoi cittadini, altrimenti si comporteranno e saranno caratterizzati come persone che fanno reati, punto e non ci sarà più nessun tipo di dialogo dal punto di vista politico.